Un nuovo anno scolastico è appena cominciato e, come solito fare, insieme a esso iniziano anche le raccomandazioni dei genitori verso i propri figli. Sempre più spesso si sente parlare delle chat scolastiche create per comunicare e tenersi informati su ciò che accade all'interno dell'istituto. Per i genitori riparte l'ansia da chat di classe, utilizzata attraverso la messaggistica istantanea di WhatsApp, a cui un po' tutti si ritrovano a partecipare. Diversi dibattiti virtuali che si accendono ogni giorno sugli schermi dei propri smartphone, con micromessaggi che spaziano dall'inventario delle attrezzature, al cambio di insegnanti si incrociano con domande e risposte sugli orari delle lezioni. Spesso l'utilizzo delle comunicazioni di servizio scolastiche si trasformano in veri sfoghi di genitori con problemi o mamme che esprimono le proprie ansie, in quanto nel gruppo c'è sempre qualcuno che scrive più del necessario, sollevando problematiche di poco conto, condividendole a più utenti possibili. Se da un lato utilizzare le chat virtuali favorisce nei casi utili una comunicazione più rapida, dall'altra parte vengono a mancare i rapporti umani e diretti non mediati anche tra genitori, alunni e docenti. Questo tipo di interazioni su queste materie, cioè l'attività didattica, il rapporto con gli studenti, la relazione, eccetera, sono materie che non possono essere affrontate in una piattaforma, diciamo così, devono essere affrontate in un rapporto, in un rapporto fra gli interessati che consenta di guardarsi negli occhi e di confrontarsi, insomma. Secondo una ricerca l'utilizzo compulsivo dello spazio virtuale ed essere costantemente connessi in tempo reale con altri genitori crea un contenitore di ansia da prestazione che potrebbe nuocere anche sull'aspetto morale dello studente. Per voi sono utili, non sono utili? In alcuni casi sì, possono essere utili, in altri invece si tende ad esagerare, sia nei commenti che tanti messaggi, tanti in continuazione. Però in alcuni casi risultano utili per scambiarsi notizie, informazioni, in quel caso lì sì. All'interno ci sono di tutto e di più, non solo quello che serve per la scuola ma anche commenti, compleanni, uscite, vacanze, di tutto. Li aiutiamo i bambini quando hanno dimenticato di scrivere un compito, soprattutto per le mamme lavoratrici, insomma ci aiutiamo tra noi mamme soprattutto. Questo secondo lei non può andare a incidere sulla perdita anche del rapporto interpersonale? No, anche perché organizziamo anche un caffè la mattina quando si ha tempo tra di noi, quindi soprattutto per quanto riguarda i bambini dell'elementare ci si vede qui fuori perché siamo obbligati a venirli a prendere. D'altro canto, secondo i dirigenti scolastici, qualora emerge un problema serio è meglio utilizzare altri canali come mail oppure telefonate dirette, serviranno a risolvere la questione meglio di una chat selvaggia. Io più che altro inviterei i genitori a cercare chiarimenti che necessitano di avere direttamente con i soggetti che sono adibiti al servizio e questo è un servizio pubblico.